Ti diranno che dovrai provare ancora, e poi ancora. Non ti diranno complimenti quando ci riuscirai. Sapranno sempre quale sia la cosa giusta per te. Diranno che hai sbagliato a fare quel che hai fatto. Diranno, mi dispiace, io non c'entro, non volevo, è andata come è andata. Ti diranno, non mi piaci, non sei il mio tipo. Ti diranno, non guardarti indietro, il futuro è davanti. E ti diranno di lasciar perdere, e di bruciare ogni fotografia. Ti diranno che i dispiace ripassano. Quelle sono le persone inutili. Quelle che quando parleranno sarai talmente lontano da non sentirli nemmeno. Che non hanno mai il coraggio di ammettere le proprie mancanze. Che mentono. Quelle che la vita lascia sempre nella sconfitta. Quelle che non ricordano mai che nel tuo passato c'è un loro incendio. Non dar loro retta. Cosa diranno? Non importa. Non conta più. Le persone si dividono per destinazioni ignote. Ma davanti agli specchi, in case vuote, con stanze vuote, colui che incontrerai passando davanti ad uno specchio, sarai tu. Solamente tu. La vita più interessante. Grazie a tutti